N.Y.Factory Torno, torno, torno Ormai ragazzi non vi dico più niente Perché mi sembra anche brutto Ecco dire torno, torno E poi non torno Io cercherò di fare sempre più video E di mettermi sempre più in questa roba qua Anche perché da tanto che non ne porto Quindi mi faceva piacere portarne uno Come potete vedere ho iniziato la serie su Stray Che è un gioco molto molto bello e interessante Vi consiglio di seguire la serie Anche per vedere un po' come il gioco Perché è molto 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 carino A me piace un sacco Comunque oggi nel momento di parlare di questo Parleremo delle news di Fortnite Allora Partiamo subito con il boom Perché Mark Rain Il co-fondatore se non erro Molto interno ad Epic Games Comunque lui ci lavorava se non sbaglio No, ci lavora tuttora Comunque Ha detto che Descriverà con una parola la prossima stagione La prossima settimana Quindi la prossima settimana avremo Un piccolo teaser Possiamo dirlo così Sulla nuova stagione Anche però se sapete che è un po' difficile Perché con una parola è un po' difficile Dedurre Però Però Ora lo capirete Perché Se Dalla prossima settimana ci daranno una parola In base a quello che abbiamo oggi O che avremo già O che avremo già dalla prossima settimana Perché usciranno altre robe Probabilmente potremmo già capire Un po' che in titolo Le intenzioni della prossima stagione Andiamo avanti E parliamo di questo teaser Che è stato rilasciato per errore Dal Nintendo Shop Già forse una settimana fa Però ovviamente io non ho realizzato video Per cui ve lo faccio vedere adesso Sembrerebbe la mano di Paradigma Barra la mano di Di uno dei membri dei sette Che viene avvolto da questa melma nera Tutta strana Inizialmente la gente non capiva Però dopo la patch di oggi Perché oggi è uscita la patch 21.51 Che tra l'altro non ha portato praticamente a niente Cioè se non la facciamo questa patch era pure meglio Uno si risparmiava i giga di memoria Sono uscite fuori cose interessanti Parliamo però prima della settimana selvaggia O perlomeno la settimana di fuoco Non si chiamano il più selvaggi Insomma cercano sempre ogni volta di salvare Le stagioni sul finale Ma non ci riescono mai con queste robe Però loro Ci vogliono provare Dove ci saranno più spawn di lucciole Spawn degli archi Di fuoco Spawn del pompa Soffio del drago E poi Verranno trovati più spesso Anche i I I canoni slurp Molto molto interessante D'altro un item molto molto forte Parliamo invece Delle macchie nere Oggi Cioè mi sa che è tutto sto mese Prima Che esca la nuova season Quindi tra dieci giorni in realtà Perché siamo il sette Tecnicamente dovrebbe uscire il dici a sette la season Comunque Ah forse addirittura il prossimo sabato Questo sabato Aspetta Aspetta Mi controllano un attimo Nella Sì quindi già la prossima settimana Entrò che il dici a sette Dove uscire la season Vediamo Vediamo cosa succede Ci sono queste macchie nere Come vi dicevo A Cacina Cacciotta Che sarebbe quel Quel posto dove c'era Ai tempi Non mi ricordo come si chiama Mancake 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 Che ora è poi diventata Una zona mutevole Con l'arbreo dell'altà Eccetera Vedete queste macchionine Che ci sono sulla strada Non è un bug Sono delle pere macchie E per non dimostrarvi che è un bug Ho questa roba qua Non è acqua ragazzi Ve lo assicuro Quella non è acqua È sempre della melma nera È molto molto triggerosa Come cosa vedete Qua c'è un'altra foto Tra l'altro se lo vedete bene Ci sono anche delle impronte Sembrerebbe di un essere umano Io ancora non ho seguito Appieno gli incarichi sintonia Cercherò di Insomma Documentarmi meglio E magari fare un video apposito Su tutto Su tutta questa cosa In sintonia Perché in effetti Non lo sto capendo neanch'io Perché ci sono queste pozzanghere Di melma Eccetera Però tecnicamente Per quello che ho capito Dovrebbe essere Tutta roba Comunque Che viene dagli incarichi sintonia Poi In caso mi documento E ci faccio un video Così magari capirete meglio Comunque ragazzi Speriamo che questo video Vi sia piaciuto Sto ricominciando un po' Ovviamente I video di Stray ci saranno Perché tanto lo devo giocare Lo stesso Prima che scade il plus Eccetera Quindi lo giocherò Stray E lo comporterò tutto E lo porterò sul canale Ci sarà però una piccola modifica Ovvero che Lo giocherò anche un po' Off camera Per evitare che sia Troppo noioso Troppo ripetitivo E Specialmente Anche un po' Godermelo Senza L'ausilio Comunque Delle registrazioni Delle cose E comunque insomma Fa sempre bene Giocare un gioco Con la storia Infatti io Vi dico la verità Sto anche giocando Miles Molares Ma non lo sto portando nel canale Per il semplice fatto che Due serie sono importanti Da portare avanti E almeno uno di questi due giochi Lo volevo fare da solo Per cui Insomma Capitemi Poi lo spiegherò Poi più avanti Anche dei video Di Stray stesso Però Siccome Se vedete questo video E seguite anche altre serie Mie Ovviamente Nel frattempo Vi Vi aggiorno Ecco Comunque Spero che questo video Vi sia piaciuto Ragazzi E niente Ci vediamo Un prossimo video Un prossimo video